Salve a tutti, dal mese di giugno 2020 avrò il piacere e l'onore di iniziare la mia attività ambulatoriale di andrologia e urologia presso il poliambulatorio Poliab360 nella Repubblica di San Marino. Sarà quindi un vero piacere estendere la mia specializzazione, la mia attività ambulatoriale e diagnostica ed ecografica presso la città di San Marino. Spero che sia un'iniziativa interessante, valida, ricca di entusiasmo. Ringrazio comunque il Poliab360 per avermi invitato e avermi accolto e spero di stringere, di entrare in simbiosi con la cittadinanza di San Marino per iniziare una collaborazione scientifica e creare un'amicizia con il proprio andrologo e urologo di fiducia. Un caro saluto a tutti e buona giornata.